Siracusa munizza free wheel, serve rispetto da parte di tutti. Negli ultimi anni tutte le tipologie di controllo ad opera della sezione ambiente della Polizia Municipale sono nettamente aumentati. 4.258 controlli nel 2019, 4.894 controlli nel 2020 e 3.866 controlli nel primo semestre del 2021. Dai controlli sugli scarichi domestici a quelli in aria marina protetta, tutte le voci sui controlli ambientali sono in aumento rispetto agli anni scorsi. Gli sporcaccioni danno sempre meno punto di riferimento e la Polizia Ambientale deve svolgere una maggiore attività di indagine con appostamenti e pedinamenti per individuare e risalire a chi si ostina ad abbandonare i rifiuti su strada. Il supporto dato dalle attrezzature tecnologiche è molto importante, fototrappole e e-killer arrivano dove spesso i controlli e gli appostamenti non possono arrivare. Grazie a un progetto inserito nel bando di democrazia partecipata ci doteremo presto di 20 telecamere per le zone balneari, afferma l'assessore aerodosea ai rifiuti urbani. La vera sfida culturale di civiltà deve contribuire alla creazione di una comunità sostenibile in grado di fornire servizi che migliorino la qualità della vita delle persone e dell'ambiente con una attenta e rigorosa visione del futuro volta a promuovere comportamenti virtuosi. Questa visione rigorosa del futuro ha portato questa amministrazione in ottemperanza alla ordinanza regionale che imponeva il passaggio al porta a porta a far sparire tutti i maleodoranti e indecenti cassonetti verdi stradali, solo chi pratica il porta a porta può constatare che è un servizio che migliora la nostra qualità della vita. Poter conferire i propri rifiuti differenziati davanti alla propria porta di casa è sicuramente più comodo di andare alla ricerca di un cassonetto maleodorante. Sono possibili altri esempi quali il CCR mobile o il compattatore per gli sfalci, l'estensione oraria a 12 ore dell'apertura dei centri comunali di raccolta hanno sicuramente migliorato la qualità del servizio e semplificato alcune operazioni prima molto più complesse per i cittadini. In ultimo, non per importanza, va sottolineato che nonostante le note difficoltà comuni a tutti gli enti della Sicilia orientale siamo riusciti a mantenere la percentuale di raccolta differenziata sugli standard del primo semestre di quest'anno, conclude l'assessore, nel mese di agosto al 53% percentuale che non deve farci appagare ma visto il momento attuale deve anzi farci prendere consapevolezza che siamo sulla strada giusta che porta verso una maggiore differenziata e soprattutto una raccolta differenziata di qualità.